8 persone sono state restate a Trapani dalla polizia, sono accusate di far parte di un gruppo criminale dedito al traffico illegale di sostanze stupefacenti. La squadra mobile ha eseguito in oltre 16 regreti di perquisizione personale domiciliare nei confronti di altrettanti innagati, responsabili di numerose cessioni di cocaina. Secondo le indagini dei senatari delle ordinanze, avrebbero consolidato contatti già avviati con narcotrafficanti attivi nel centro Italia. Sono emersi in oltre due episodi di estorsione aggravata e danni di altrettanti pusher che non avevano orato i debiti contratti con l'organizzazione criminale.